Un saluto anche a Paolo Riggio, il nostro fotografo. In questo momento l'anno in produzione sta immottalando la Calabria. Devi un primo piano alla torta, qua c'è la torta perché il nostro zio ha fatto 178 anni, il brigante più grande della Combricola. Abbiamo fatto la torta, giustano pochi ricotta, salzizza, ova. Marina! Si trattava di briganti, combattevano nel buio, coi mantelli e di fucili proiettati nel futuro. Si trattava di briganti che sfidavano anche Dio per la loro dignità. calpestata nell'oblio. E si trattava di briganti, di briganti e brigantesse, che combattono suonando per un pugno di promesse. E si trattava di briganti, di briganti e brigantesse, che combattono suonando per un pugno di promesse. E si trattava di briganti, che combattono suonando l'ingiustizia che distrugge le magie di questo mondo. E si trattava di briganti, che combattono suonando per un pugno di promesse. Ricordate il nostro zio Ciccio, che oggi combia 678 anni. E ci abbiamo fatto la torta. All'opposto della Cremia ci abbiamo messo la fissuraglia. Lan Produzioni.